Tutti i stagli amplificatori con un solo transistore che abbiamo visto finora sono stagli amplificatori che hanno l'ingresso riferito a massa cioè il giratore di ingresso è tra il nodo d'ingresso, per esempio la base nel caso degli amplificatori a bipolare e massa nel caso degli amplificatori con FET mettevamo l'ingresso tra gate e massa se vi ricordate noi abbiamo guardato anche dei blocchi di amplificatore differenziale dove quindi abbiamo due ingressi ed era la differenza della tensione tra i due ingressi che veniva amplificata e nessuno dei due nodi era la massa questa è una cosa che è comoda avere in molti casi e noi dobbiamo modificare leggermente la configurazione rispetto a quella che abbiamo visto vediamo com'è che si fa nel caso dell'amplificatore con bipolari un modo di ottenere l'amplificatore differenziale il caso più semplice è quello di usare due transistor perfettamente uguali e organizzati in una configurazione emettitore comune dove c'è un'unica resistenza sull'emettitore immaginate una cosa del genere qui ci può essere anche un generatore corrente ma insomma mettiamoci per ora la resistenza sull'emettitore una configurazione di questo tipo ora per comodità io non vi indico level al partitore di polarizzazione della base immagino di avere qua il meno e qua il più quindi questo che cosa vuol dire? vuol dire che non sto a non vuol dire che la base non sia polarizzata voglio dire che non sto a disegnarla adesso no, avremo un partitore sulla prima base un partitore sulla seconda base ma ora non mi interessa immaginiamo di trascurare quell'aspetto di mettere direttamente qua un generatore l'ingresso in questo modo così ok, win tra più e meno vedete a questo punto non è più riferita a massa il generatore di ingresso riferita a massa vuol dire che un nodo è a massa no, abbiamo che in realtà tutti e due i nodi sono abbiamo imposto soltanto le differenze di tensione tra i due nodi ma non il valore della tensione su ciascun nodo e tipicamente in questo caso l'uscita lo prendiamo su uno dei due terminali per avere un'uscita singola stavolta in questo caso è riferita a massa quindi abbiamo un ingresso differenziale e un'uscita non differenziale diciamo unipolare che è un'attenzione riferita a massa ok ho ripeto ancora una volta intenzionalmente non vi sto a rappresentare anche il circuito di polarizzazione della base ok può esserci, può esserci un R1, un R2 poi un condensatore di accoppiamento per non disturbare la polarizzazione della base evito di farlo soltanto perché non non mi aiuta a spiegare niente e mi complica il disegno ok allora la cosa importante di questo amplificatore è che sia perfettamente simmetrico il circuito rispetto a quest'asse diciamo che il mondo visto dall'ingresso più e visto dall'ingresso meno sia praticamente uguale ok che vuol dire che le due resistenze del circuito devono essere uguali i due transistori devono essere uguali e devono essere anche esattamente alla stessa temperatura perché devono funzionare nello stesso modo come ti visto il comportamento dell'amplificatore del transistor dipende dalla temperatura se vogliamo essere sicuri che i due transistori funzionino in modo identico devono essere anche alla stessa temperatura questo com'è che si realizza? dal punto di vista pratico si realizza mettendo i due transistori molto vicini tipicamente sullo stesso pezzettino di silicio in modo che effettivamente siano alla stessa temperatura e poi la difficoltà di realizzare un transistore fatto così è che un amplificatore fatto così è che come abbiamo discusso un po' di volte è difficile avere transistori uguali perché i transistori hanno una dispersione abbastanza ampia delle caratteristiche quindi come faccio a fare in modo che siano uguali quei due? in generale dal punto di vista della fabbricazione non è una cosa banale diciamo si cerca di farli effettivamente vicini con la stessa forma con un progetto per cui i due transistori sono disegnati praticamente uno dentro l'altro in modo simmetrico per far sì che siano il più possibile effettivamente uguali ora supponiamo che siano uguali ora non guardiamo troppo com'è che si fanno e perché ci interessa la cosa facciamo questo ragionamento supponiamo di avere un ingresso chiamiamolo v più la tensione del più riferita a massa e v meno la tensione del meno riferita a massa quindi v in la tensione differenziale sarà per noi v più meno v meno quindi v più la terminale della base indicata con più quindi la base di q1 e v meno la tensione sulla base di q2 quella che è indicata con meno allora ora immaginate di fare l'analisi per piccolo segnale che cosa succede? se io faccio l'analisi per il piccolo segnale devo sostituire a quei transistori circuiti equivalenti facciamo il disegno tanto non c'è necessità di usare troppo la fantasia facciamo proprio il disegno allora facciamo il circuito di piccolo segnale e vediamo come è fatto avrò la base di q1 la chiamo b1 l'emettitore di q1 e di q2 sono uguali qui ci sarà la re questa è massa dal punto di vista delle variazioni questa è la base di q2 la chiamo b2 l'ho indicato col meno qui c'è v più beh ora la v più la posso indicare così vabbè facciamo chiamiamo win questo è v meno il collettore è qui del primo è il collettore del secondo che è portato a massa attraverso questo è c1 questo qui è rc questo è c2 e qui ho il circuito equivalente facciamo il disegno per le basse frequenze anche se non conta niente non conta in realtà il discorso che faccio vale anche alta frequenza ma insomma tanto si capisce una volta che lo faccio allora immaginate che questo sia il circuito quindi h1 su h1 questo è hf1 per ib1 la ib1 è questa qui da questa parte è stesso discorso qui c'è h e2 questo c'è ib2 e questo sarà hf2 per ib2 allora il circuito è questo qua ora però dobbiamo sfruttare i ragionamenti che abbiamo fatto per la simmetria quindi q1 e q2 identici e circuito perfettamente simmetrico allora qual è la conseguenza principale di tutto questo la conseguenza principale è che i due transistori sono esattamente polarizzati nello stesso modo ci passa se il circuito è simmetrico e i due transistori sono uguali vuol dire che nei transistori passa la stessa corrente e le tensioni applicate sono uguali quando q1 è 0 no? appunto a riposo quindi i punti di riposo di riposo di q1 e q2 sono uguali e i parametri di piccolo segnale sono uguali no? chiaro il mondo è uguale a destra e a sinistra che succede? che allora anche il circuito di piccolo segnale è perfettamente simmetrico cosa vuol dire? quindi questa hie1 uguale a hie2 hf1 uguale a hf2 hie1 uguale a hie2 è tutto di nuovo simmetrico ok? allora cosa facciamo in questo caso? facciamo questo questo tipo di considerazione ricordate com'è che l'abbiamo studiato gli amplificatori differenziali quando abbiamo guardato un amplificatore differenziale diciamo astratto come circuito equivalente abbiamo detto supponiamo di applicare una tensione positiva su v più e negativa su v meno cioè immaginando di applicare due generatori separati a v più e v meno di dire che v più è uguale a v in mezzi e v meno uguale a meno v in mezzi cioè applichiamo una tensione uguale e opposta e questo è quello che si chiama modo differenziale no? guardiamo prima la condizione in modo differenziale quindi applichiamo due tensioni diverse a v più applichiamo una tensione che è uguale a v in mezzi e a v meno applichiamo una tensione che è uguale a meno v in mezzi allora quindi che cos'è che vuol dire facciamolo facciamo il disegno per bene anche qua vuol dire in pratica abbiamo due generatori un generatore si chiama v più un generatore si chiama v meno e la v in sarà uguale a v più meno v meno ok? allora se v più è v in mezzi e v meno è meno v in mezzi che è una scelta è una possibile scelta chiaramente se la differenza è uguale a v in in realtà sono infinite le possibilità che mi danno la stessa differenza però immaginiamo che siano esattamente uguali in modulo e opposte allora che cos'è che succede? guardate il circuito essendo il circuito perfettamente simmetrico se applichiamo la sovrapposizione degli effetti succede una cosa molto molto semplice guardate l'effetto che ha v più e v meno su questo nodo essendo il circuito perfettamente simmetrico visto da v più e visto da v meno il circuito è uguale quindi quando attacco v più e spengo v meno la tensione su questo nodo il nodo diciamo che sta sull'asse di simmetria del circuito cambia di un certo valore quando applico v meno che è uguale a meno v in mezzi è opposta di segno rispetto a v più l'effetto sulla tensione di questo nodo sarà uguale al contrario ok quindi quando vado a fare la sovrapposizione degli effetti quando applico v in mezzi su v più ottengo un effetto quando applico meno v in mezzi su v meno ottengo l'effetto uguale opposto la somma fa zero ok quindi quello che succede è che quando applico una tensione differenziale in modo differenziale all'ingresso la tensione di questo nodo non cambia ok questo vale solo per questo nodo no perché per gli altri rami l'effetto non è lo stesso quello di v più e di v meno perché fate conto questa rc sarà più vicina a v più e più lontana da v meno quindi l'effetto non sarà lo stesso ma questo nodo è esattamente sull'asse di simmetria del circuito dove deve essere se il circuito lo prendete e lo girate rispetto a quell'asse di simmetria rimane uguale perché tutti i parametri sono identici a sinistra e a destra di quell'asse quindi l'effetto di v più e l'effetto di v meno su quel nodo devono essere identici ok allora quindi cosa posso dire posso dire che la tensione su questo nodo chiamiamolo ve che è l'emettitore è uguale a zero non cambia per le variazioni schiamiamolo minuscolo così usiamo la nostra convenzione per le variazioni quindi l'effetto del generatore in v più è uguale al contrario all'effetto del generatore in v meno ok allora perché questo mi fa comodo perché vedete l'uscita io la prendo qui no allora a questo punto se so che v vale zero posso studiare questo circuito soltanto per metà perché tanto non mi serve studiarlo tutto io so la tensione di questo nodo posso scrivere soltanto questo circuito quindi come diventa il circuito diventa fatto in questo modo qui c'è v meno qui c'è la tensione v meno che è uguale a meno v mezzi qui c'è he2 questo è l'emettitore che è a massa poi qui c'è hf2 qui c'è 1 su he2 qui c'è l'rc e poi c'è la massa il circuito è questo io devo calcolare questa tensione qui tra l'uscita e massa vedete questo conto l'abbiamo già fatto un sacco di volte no vò diviso v meno quanto fa abbiamo già fatto questo fa rc che moltiplica rc parallela 1 su he2 che moltiplica hfe2 diviso he2 questa è l'espressione col segno meno quindi siccome v meno è uguale a v in mezzo se faccio v o diviso v in viene uguale a v o diviso v in meno per v meno diviso v in quindi diventa un mezzo rc parallela 1 su he2 per hfe2 diviso he2 he2 tanto he1 e he2 sono uguali quindi non c'è non c'è bisogno di fare uno sforzo particolare va bene quindi questa è l'amplificazione v o su v in che abbiamo in modo differenziale questa è quella che si chiama anche chiamiamola ad va bene o per completezza è importante vedere che cosa succede invece nel modo comune se applichiamo la stessa tensione al più e al meno ok perché questo ve lo perché sarà un pochino più chiaro tra un attimo però guardiamo un secondo che succede che noi adesso abbiamo praticamente due ingressi v più e v meno possiamo voler come dire mantenere la differenza uguale ma applicare una tensione diversa da zero sulla base sulla base del primo transistor e sulla base del secondo quando applichiamo esattamente la stessa tensione a destra e a sinistra a destra e a sinistra si dice che stiamo operando in modo comune che stiamo pilotando in modo comune il transito l'amplificatore in modo comune allora stavolta abbiamo v più uguale a v meno è uguale a v c allora in questo caso che cosa succede vediamo il circuito per vedere cosa succede a questo circuito conviene disegnare il circuito in questo modo allora io faccio questa cosa qui per comodità vi disegno il circuito in piccolo segnale però nel circuito in piccolo segnale invece di indicare di disegnarvi il circuito equivalente dell'amplificatore del transistor vi faccio il simbolo del transistor ok però sto indicando soltanto il circuito equivalente questo è il simbolo per dire che lì c'è il transistor ma poi questo è un circuito equivalente in piccolo segnale ok quindi quello è il simbolo del transistor quindi è un transistor linearizzato allora io cosa faccio? faccio un piccolo stratagemma che è quello di scrivere la resistenza RE come il parallelo di due resistenze RE di due resistenze di valore 2 RE non è cambiato niente ovviamente qui applico V meno e qui applico una V più però in questo caso sono uguali vedete il circuito che ho è questo e qui faccio questa valutazione sempre una valutazione di simmetria no? che è questa cosa qui se uso la la sovrapposizione degli effetti e guardo la corrente in questo ramo che ho costruito che ho diciamo introdotto in modo artificioso spezzando in due la resistenza RE quello che succede è che vedete questo ramo è di nuovo perfettamente simmetrico nel circuito per cui se accendo V più e spengo V meno mi spingerà una corrente in questa direzione se accendo V meno e spengo V più la corrente mi verrà spinta in quell'altra direzione per simmetria perché è come se avessi come dire disegnato lo stesso avessi girato su se stesso il circuito il circuito è lo stesso visto da V più e visto da V meno se V più e V meno sono uguali in modulo e in valore l'effetto di queste due correnti è uguale e contrario e quindi quando vado a fare la sovrapposizione degli effetti la corrente risultante è nulla quindi in questo ramo fittizio che ho introdotto in pratica non passa se V più è uguale a V meno tutto si sposta in modo uguale a sinistra e a destra e in quel ramo che va da sinistra e destra la corrente non passa ok? allora perché mi fa comodo osservare che la corrente non passa? perché se in questo ramo non passa corrente io posso togliere il ramo non altero niente d'accordo? per cui posso studiare soltanto il circuito più semplice quello dalla parte dove prendo l'uscita la V o la prendo qui no? posso quindi per la sovrapposizione degli effetti se V più è uguale a V meno in questo ramo non passa corrente allora quindi posso disegnare di nuovo solo una parte che vedete se in quel ramo non passa corrente vuol dire che i due circuiti sono separati posso disegnare soltanto il circuito dalla parte che mi interessa adesso per comodità vi disegno di nuovo di nuovo questi elementitori qui c'è una resistenza 2R qui c'è HI2 e qui c'è V meno l'uscita la prendo qua e quindi so quanto fa VO su V meno perché l'ho già calcolata questa cosa qui non vi ricordate questa è l'amplificazione di un amplificatore a emettitore comune con resistenza sull'emettitore quindi posso scriverla direttamente semplificando un po' perché non ho R1 non ho R2 posso prendere l'espressione che ho già ricavato ora ve la scrivo direttamente mi viene una cosa del genere VO su V meno è uguale a meno HF primo per RC mi ricordate quando c'è l'HOE uso di solito un HF primo diviso HIE più HF primo per 2RE quindi questa espressione qua quindi VO su Vc è uguale a questa roba qui V meno uguale a Vc quindi questa quantità non la chiamiamo AC cioè amplificazione in modo comune vi ricordate del ragionamento che abbiamo fatto sugli amplificatori differenziali se l'amplificazione di modo comune è molto più grande dell'amplificazione differenziale noi possiamo considerare l'amplificatore praticamente differenziale ok com'è che si mettono insieme le due cose proviamo a rivederlo perché è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo visto la prima volta noi in generale cosa abbiamo abbiamo che in generale abbiamo due ingressi V più e V meno noi chiamiamo il come Vin la differenza tra i due ingressi e come Vc il valore medio tra i due ingressi va bene quindi questa è la quindi la differenza e questo è il valore medio allora a questo punto vedete noi possiamo esprimere ciascuno dei due ingressi in funzione della differenza e del valore medio perché in pratica noi possiamo scrivere V più vedete sfruttando questa espressione vabbè ve lo faccio vedere facendo vedere tutti i passaggi però sfruttando questa espressione noi cos'è che possiamo scrivere vediamo un pochino se ve lo riesco a far vedere noi qui possiamo scrivere quindi che 2Vc è uguale a V più più V meno e a questo punto se metto insieme questa e questa faccio la somma delle due diviso 2 mi viene V più uguale a V in mezzi più Vc e V meno mi viene uguale a meno V in mezzi più Vc quindi se faccio la somma mi viene V più se faccio la differenza diviso 2 mi viene V meno quindi infatti vedete se faccio V più meno V meno mi viene V in se faccio la media tra V più e V meno mi viene Vc ok allora quindi vedete noi possiamo scrivere le due tensioni di ingresso come un modo comune più un modo differenziale e quindi possiamo per esempio calcolare la tensione di uscita come valutando la sua posizione degli effetti quindi possiamo dire calcolo la tensione di uscita prima supponendo di avere soltanto il modo differenziale poi supponendo di avere soltanto il modo comune e poi sommando le due tensioni perché effettivamente siamo in regime lineare abbiamo idealizzato il circuito quindi che cosa vuol dire questo che la tensione di uscita sarà uguale a l'amplificazione differenziale per il modo differenziale più l'amplificazione modo comune per il modo comune se AC è molto minore di AD a questo punto possiamo trascurare la parte in modo comune e diciamo che l'amplificatore è differenziale vedete nel nostro caso è quello che vorrei far vedere che vale questa condizione cioè per come è disegnato l'amplificatore effettivamente questa condizione vale vi ricordate qual è il parametro che ci dice quanto vale c'è un coefficiente che si chiama CMRR che è il rapporto di AD su AC che chiaramente deve valere un numero molto grande se AC è molto minore di AD quindi siccome abbiamo calcolato AC e AD nel nostro caso possiamo vedere quanto vale il CMRR il cosiddetto rapporto di radiazione in modo comune allora scriviamolo vediamo un po' il caso particolare allora il CMRR è AD diviso AC e AD era uguale a quello abbiamo scritto prima questa qui un mezzo RC parallelo a 1 su HE per HF2 diviso HE2 quindi è un mezzo per RC parallelo a 1 su HE per HF2 diviso HE2 diviso AC che l'abbiamo calcolato poco fa è questa roba qua prendiamo il modulo tanto stiamo facendo dobbiamo vedere quantitativamente quanto sono grandi viene HF1 per RC diviso HE più 2 volte RE per HFE allora questa è l'espressione questa espressione si valuta bene se HE è uguale a 0 è più facile da valutare in realtà qual è il punto critico si vede anche qualitativamente così però con HE HE uguale a 0 è più facile l'effetto grosso qual è? è che questa roba qui pesa tanto perché questo c'è anche qui HF2 HF1 è uguale a HF abbastanza simile quindi sono abbastanza vicini questi RC e RC per HE non cambiano tanto e l'effetto grosso è questo che se riesco a fare in modo che 2 per RE per HFE sia molto più grande di HE l'amplificazione in modo comune viene molto più piccola l'amplificazione differenziale e quindi questo rapporto diventa grande allora per vederlo in modo semplice supponete questa situazione se 1 se HE è uguale a 0 allora allora in quel caso lì HFE1 diventa uguale a HFE e questo vuol dire che il CMRR quanto fa? fa un mezzo nel parallelo qui rimane soltanto RC per HFE2 diviso HE diviso HFE2 per RC diviso HE più 2 RE per HFE quindi queste i numeratori se ne vanno e quindi qua rimane un mezzo HE più 2 volte RE per HFE diviso HE e quindi questo fa un mezzo che moltiplica 1 più 2 volte RE beh questo HFE diviso HE è GM quindi questo se si riesce ad avere RE per GM molto grande può essere un numero molto più grande di 1 tipicamente con uno stadio di gene si arriva facilmente a 100 100 ma 1000 è molto difficile ma insomma un centinaio ci si arriva abbastanza facilmente ok quindi vedete che cos'è che si sfrutta in pratica si sfrutta il fatto che per il modo differenziale la resistenza sull'emettitore sparisce per simmetria e per il modo comune invece la resistenza sull'emettitore la RE raddoppia per cui la differenza tra queste due cose c'è una differenza forte di amplificazione che poi riesce a darci il rapporto di reazione comune elevato d'accordo? questo è il caso e questo è uno stadio che si usa tipicamente all'ingresso dell'operazionale quando abbiamo bisogno di ottenere perché ricordate in un'operazionale il primo stadio lo stadio differenziale poi gli altri stadi sono stadi di guadagno e quindi ecco però nel primo stadio differenziale si usa uno stadio di questo tipo una cosa simile può essere fatta con FET un amplificatore differenziale con FET giusto vi faccio il disegno senza farvi conti particolari amplificatore differenziale con FET si fa nello stesso modo in pratica che cosa si fa? si mettono due transistor uguali per esempio due MOSFET così e poi un unico resistenza di source questo in realtà ancora meglio è mettere un giratore corrente ma insomma è la stessa cosa alla fine dal punto di vista pratico un giratore corrente con resistenza serie con resistenza parallelo per il piccolo segnale rimane solo la resistenza parallela al posto di S quindi non cambia niente quindi questa sarebbe la V più questa sarebbe la V meno e se facciamo due conti viene fuori che il rapporto di realizzazione in modo comune in questo caso viene uguale a un mezzo che moltiplica in questo caso l'HIE non conta viene GM per 2RS quindi viene GM per RS facendo due conti è questo quello che si vede stesso concetto esattamente uguale vedete l'unica cosa che cambia tra questo e il caso precedente è che qui non c'è HIE o per il resto il circuito è esattamente uguale ok ok Grazie. Scusate, il bimba è rimasto fuori casa. Allora, dunque, ultimo punto, sempre per chiudere questo tema. Ricordate il ragionamento che abbiamo fatto sugli amplificatori multistadio, in particolare tra gli amplificatori multistadio abbiamo visto amplificatore operazionale. Allora, vediamo un po' di legare le cose che abbiamo visto. L'amplificatore operazionale è un multistadio e vi ricordate come era fatto? Aveva uno stadio differenziale, era tipicamente un tre stadi. Il primo era uno stadio differenziale, quindi qui c'è win. Poi il secondo era uno stadio di guadagno, ricordate che serviva ad ottenere un guadagno elevato. E poi, siccome di un amplificatore multistadi la resistenza di uscita è l'ultimo stadio, il secondo stadio serviva ad avere una resistenza di uscita bassa, perché l'amplificatore operazionale doveva avere una resistenza di uscita, idealmente nulla, no? Quindi, più o meno è fatto in questo modo. Quindi, primo stadio aumenta il CMRR e mi aggiusta la resistenza di ingresso, l'ultimo stadio impone la resistenza di uscita, lo stadio centrale mi impone l'amplificazione. E così impongo tutti i parametri, non solo l'amplificazione, ma tipicamente anche il limite superiore di banda, no? Perché, vi ricordate, si metteva una capacità tra ingresso e uscita dello stadio di guadagno in vertente per fissare il limite di banda. No, questa era la scelta. Ora, noi amplificatori operazionali possiamo farli sia con bipolari, sia con MOSFET, o con FET in generale. In generale MOSFET poi è quello che si fa. Ora, siccome abbiamo visto diversi stadi con un singolo transistore fatti per ciascuno di questi componenti, se volessimo fare un amplificatore differenziale a bipolari, che tipo di stadi sceglieremo? Lo stadio differenziale noi lo facciamo con un differenziale a bipolari, come l'abbiamo fatto vedere adesso, quindi stadio differenziale a bipolari. Il secondo stadio, che è lo stadio di guadagno, come lo facciamo? Vedete, abbiamo bisogno di uno stadio che amplifichi molto. Tipicamente lo facciamo con un amplificatore emettitore comune. Vi ricordate, emettitore comune, minimizzando la resistenza sull'emettitore, si aumenta il più possibile il guadagno. E tipicamente qua mettiamo anche la capacità tra ingresso e uscita, perché l'amplificatore a emettitore comune è invertente, quindi se mettiamo una capacità tra ingresso e uscita dello stadio a collettore comune, questo vuol dire emettitore comune. Aspettate, infatti non lo scrivo per esteso che mi sembra più chiaro. Stadio a emettitore comune. È invertente, quindi possiamo mettere una capacità tra ingresso e uscita dello stadio per fissare il limite di banda. E lo stadio di uscita, che deve avere una resistenza di uscita bassa, con cosa lo facciamo? Lo facciamo con uno stadio a collettore comune, per esempio, perché è a collettore comune che c'è l'imperenza di uscita più bassa. E approssimativamente così sono fatti. Ora io, così un po' semplificato rispetto alla realtà, spesso è un pochino più facile che abbiano più di tre stadi. Però insomma, approssimativamente abbiamo visto l'emettitore comune è quello che ci può dare un'amplificazione più grande, e quindi lo usiamo come stadio di guadagno. Il collettore comune ci dà la resistenza di uscita più bassa e quindi lo usiamo come stadio di uscita e lo stagio di differenziale è come abbiamo fatto. Se invece vogliamo farlo a FET, a MOSFET in generale, noi cosa faremo? Faremo uno stadio di differenziale a MOSFET, a FET, scrivo a FET perché è più corto, ma in pratica vuol dire MOSFET, J-FET per fare amplificatori è raro. E poi cosa abbiamo? Abbiamo uno stadio di guadagno, e come si fa con i FET lo stadio di guadagno? Va fatto con uno stadio a source comune, cercando di minimizzare la resistenza di source. Anche lo stadio a source comune ha di buono che è invertente, quindi possiamo mettere una capacità tra ingresso e uscita per imporre il limite superiore di banda. E poi per finire, lo stadio di uscita, che deve aggiustare la resistenza di uscita, perché deve abbassare la resistenza di uscita in caso dell'operazionale, lo facciamo con uno stadio a drain comune, che ha la resistenza di uscita più bassa di tutti. Vedete qua alla fine lo schema è questo. Ora, è abbastanza semplificato la situazione, perché spesso lo stadio di uscita è un pochino più, è una configurazione a collettore comune, a drain comune, ma è una configurazione un pochino diversa da quella che abbiamo visto insieme. Insomma, per il momento, non per il momento, in questo corso non entriamo più nel dettaglio. Insomma, queste sono le configurazioni che adoperiamo. Ok? D'accordo. Allora, io a questo punto concludo qui. qui? Grazie.